Ciao amici, benvenuti di nuovo alla nostra lezione in turco italiano. Già avevamo imparato l'argomento, il suffizio e una congiunzione deida in turco. Oggi continueremo a scrivere più esempi per questo argomento. Per oggi ho preparato più esempi e voglio scrivere questi esempi per aiutarvi per questo argomento. Se volete possiamo cominciare piano piano. E non voglio ripetere questo argomento per non perdere più tempo perché non voglio fare questo video tanto lungo. Adesso scrivere più esempi che ho preparato per voi. Per esempio, bar significa il bar. Il bar. Il bar. Barda. Barda. Significa il bar. Barda. Significa nel bar. Barda. Nel bar. E altro esempio. Il che. Il che. Il che il paese. Il che il paese. Il che il paese. Il che. Il che. Significa nel paese. C'è amici. E altro esempio. Altro esempio. Altro esempio. Il che. Il che. E altro esempio. Il che. Il che. Il che. Il che. in cucina in cucina Bairac Bairac la bandiera 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 Bairac Bairac L'altro esempio, per esempio, giovannic, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza, la sicurezza. Nella sicurezza. Nella sicurezza. Sì, amici, già ho preparato più esempi per scrivere per oggi e ho scritto per continuare. L'altro esempio per l'altra parte. Francia. 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 Francia da in Francia. 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 Se volete posso scrivere, per esempio, pariste, paris, parigi, paris, parigi, paris, parigi, pariste. Pariste, parigi, 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 par che cosa può scrivere, hava aline, per esempio, hava aline, dove dove posso scrivere, per esempio, hava aline, posso scrivere qui, hava aline, l'airo e porto, hava aline, l'airo e porto, hava aline, l'airo e porto, ma non posso scrivere, perché non c'è, non c'è, abbastante, posto qui, per questo non posso scrivere, allora non, non scrivo qui, scrivere qui, hava aline, l'airo e porto, 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 ho scritto gli esempi che ho preparato per oggi se volete potete scrivere e sto pensando per per scrivere più esempi voi scrivete questi esempi e io penso per gli esempi per scrivere e sto aspettando per voi a 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 avanti il paese in turco e potete anche potete scrivere esempi per dire i paesi come ho scritto qui e se volete potete scrivere credo che già avete scritto e voglio eliminare questi esempi per scrivere anche per le congiunzioni e questi esempi sono arrivati nella mia mente e ho scritto e adesso possiamo passare alla congiunzione in turco e voglio scrivere un po' esempi non sono arrivati più esempi nella mia mente per scrivere qui per questo per questo punto credo che basta per aspettare e abbiamo aspettato tanto allora se volete possiamo ripetire bar il bar bar da nel bar ülke il paese ülkede nel paese mutfac la cucina mutfac da in cucina bayrak la bandiera bayrakta nella bandiera güvenlik la sicurezza güvenlikte nella sicurezza franza franca franza da in franca paris parigi pariste a parigi havaalanà l'agrapporto ho scritto qui e credo che basta per scrivere questi esempi e allora sto passando alle congiunzioni in turco e scrivere del per esempio anche per questo per questo punto per esempio ben ben io ben io ben io Ben de Ben io Ben io Ben io Ben de Anche io Sen tu Sen de Tu anche O Lui lei O lui lei Oda Lui Anche Lei Anche Biz Noi Bizde Noi Anche Sì Amici Sì Voi Sì 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 Biz Noi Bizde Noi Anche Noi Anche Sì Sì Voi Sì 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 Loro Onlar da Anche Loro Loro Anche Loro Anche Loro Anche Loro Anche Scrivo Loro Anche Per esempio Ho scritto Questi esempi Per le congiunzioni In Turco In Turco Aşkta 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 Loro Anche Loro Anche Loro Anche Loro Anche Il Normale Dove Essere Così Il Normale Dove Essere Così Perché Finisce Con Questa Lettera Ma Come Abbiamo Come Abbiamo Detto Nelle congiunzioni Esiste Da Ah Sì Nelle congiunzioni Sempre Esiste Così Per il suffisso Esiste Così Perché Finisce Con Questa Lettera Ho Voluto Dire Questo Punto Di Novo Ho Eliminato E Adesso Potete Scrivere E questo è sempre anche E vedo Vedo Bastante Questo video Per oggi E ho Già Avevamo Imparato Il Questo Argomento O Adesso Ho Voluto Fare Ricordarvi Il Questo Argomento Di Novo E Come Come ho detto Il Questo Argomento E Basta Per Oggi E Con Queste Esempi Abbiamo Finito Il Questo Argomento Suffisso E Congiunzioni In Turco Ciao Ciao Amici Come Avete Visto E Imparato Oggi Oggi Anche Abbiamo Fatto Più Esempi Per Questo Argomento Come ho detto Che Il Questo Video E Basta Per Oggi E Non Voglio Fare Il Questo Video Tanto Lungo E Aspetto Che Ho Potuto Aiutarvi Anche Per Questo Argomento Grazie Per Ascoltarmi E Ci vediamo Nel Altro Video E Nel Tre Lezioni Ciao Amici